Ecco, questo è il pane della vita, prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, bevete tutti, questo è il mio sangue. No, Gesù, mettiti a dieta! No, siamo abbruttati! 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 Ora basta! E' caduto e allora fa ridere? Qui ci si mette l'anima e se non vi piace potete pure andarvene. Non abbiamo bisogno di gente come voi! Sei caldo! Sei caldo! Andate! Guarda! Andate! Andate via! Guarda, non è rotto, è solo uscito dall'asse. andate, guarda! Vai, sii dì, dai! Sì, dai! Sei stupendo! Sei un Cristo perfetto! Sei povero! si è ricercato tutti ritornano di te ma sono grasso anche Cristo lo sarebbe oggi sai e ora mi lascio un nuovo comandamento non c'è amore più grande dare la vita per la salvezza di un amico padre proteggi quelli che mi hai affidato attraverso di loro io sono la via la verità è la vita io vado a pregare venite con me l'anima mia è triste non c'è non c'è non c'è Vedrà adesso il cortisone comincerà a fare effetto Mi chiami un taxi Voglio andarmene Ma è tutto bloccato Bisognerà aspettare la fine della rappresentazione Ma hanno cominciato senza Gesù Senza di me A questo mondo nessuno è indispensabile Anche Gesù può essere sostituito Già È vero Quale dei due criminali Volete che venga messo in libertà? Gesù di Nazareth O Barabba? Barabba! D'accordo! D'accordo!